Ciao a tutti amici di Player Inside 2, finalmente siamo tornati Sembra, cos'è tipo quella, come si chiamava? Quella cosa Floris Brosca che faceva la luna nera Attenzione, la luna nera Oggi parliamo di cose oscene Cioè disegni che facciamo noi Però siccome Ogni volta ci dobbiamo mettere una variante Perché se no la serie fa schifo Siccome disegniamo troppo bene Stavolta disegniamo con la sinistra Perché siamo entrambi i destri Che poi dice il saggio Se lo fai con la sinistra Sembra che sia un altro a farlo Che cosa? Niente Te la faccio io la foto? Vai Ma che cazzo Ma che spacchio di trasmissione Attenzione, così è bellissimo Tu m'hai fatto molto bene Io direi adesso faccio a te la foto Esatto, la faccio subito a te Molto bene fatta Fammela bene, dai Io direi benissimo, è andata molto bene Ragazzi siamo dei professionisti a fare le foto Tra l'altro quelle che mettiamo su Instagram Sono peggio di così Sì, esatto Certe volte devo dire Fuori lo stilo Sembra fuori la battuta Da uscire lo stilo Ah, per te Esciamo lo stilo Devo dire che è super giù, super giù Molto bene Non ho mai che so che scherzi Moglie di sto cazzo Ah, devo fare con la sinistra quindi Io direi che non ci sia Cioè non riesco a fare una minca Allora è una persona Persona scemo Re Regina Dinosauro Ah, gallina No Pelato E tu devi vedere E rarasta Ah, cresta Allora No Cresta come? Cioè Cresta da scemo Martello Non so disegnare C'è con la destra Figuriamoci con la sinistra Cosa è sta cosa? Questo è Moc Il tagli Il taglio Moc Eh, cioè Alla Alla Moc È porco E' davvero buono, dai Esatto Che è? Alla Moicana, vero? Vabbè, Mocca o dire Moicana Questo è facile Questo è facile Attenzione Quanto? Sì, esatto Esatto Due Non è andata proprio benissimo È fatto schifo Ragazzi, io non so neanche se la sinistra si possa usare Ragazzi, fatemi sapere se secondo me non era scarsa lei a indovinare O io È, è, è tipo È fattibile Cioè, la sinistra È per decolazione Ragazzi, quanti mancini ci sono? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti Foglio bianco Come al solito Mamma mia, ragazzi, è impossibile Impossibile Mi dice l'impossibile Sam & Max Max di Sam & Max No, 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 aspetta Maschera da toniglio Quella di Biosho Che cavolo No, allora Sacro Graal Sacchetto Eh! Sacchetto della spesa Busta Esatto Ah, ok Pensavo Ma dove era la busta quella da lettere? Potevi fare anche Busta Rhymes Cosa impressionante Il mio pene Montgomery Bank Oh no, allora Non fare queste cose Tu hai fatto chiaramente uno scroto Coda Coda da cavallo Coda Fiocco Elastico E oppure Fiocco E oppure Detto anche Lasciamo stare Detto anche Coda Con chignon Nooo Fiocchetto Dai Mica Oppure Oppure Siete sentiti tutta la faccia diversa Cos'è questa cosa? Che cazzo ne so Una musica a sé Quindi hanno Scaldamuscoli Dai cos'hanno in comune queste due cose? Nastro Esatto Dai sono stata brava ragazzi Con la sinistra Con la sinistra niente male La nostra maestra Mica Ma poi difficili Mica Maionese Tomato Ehm Tomato Senabe Che c'è Esatto Cosa? Vabbè già ho perso Ma non ho capito C'è più ne indovino io Più perdo No 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 Pesce Dai scaglia E non c'è come farla Comunque adesso devi fare la penitenza Cioè la penitenza che abbiamo scelto Ovvero Devi disegnare ad occhi chiusi Nella prossima Perché io? Adesso come penitenza Dobbiamo farne una di quelle che c'hanno proposte Cioè disegnare ad occhi chiusi Che sicuramente viene meglio Di disegnare con la Silvia Ma io non ho capito Chi è che ha perso? Vabbè facciamo che ho perso io di nuovo Dai ok Cioè io vengo Indomino le cose Allora Mi sento rei cia Maresciallo No Ehm Icaruga Ma chi è Icaruga? Pesciolini Ma che pesciolini? Ehm Pelo Donna pelosa Gabbia per uccelli Ehm Persona che si grattugia alle corna Ma che è? Persona che Ehm Balla il flamè No No Ma stai disegnando A questo punto Che cazzo Vabbè dai apri gli occhi Madonna mia Allora questo Doveva essere un panda Questo Il bambù Uova alla coca Ehm Cosse? No Lavandino No Orbita Che dito Adapri gli occhi Guarda che hai fatto Un pasticcio Ho un senso della coordinazione che fa Cioè invidia Ah non lo so Cioè veramente Fa schifo Dai passiamo alla prossima No vediamo se te lo faccio capire Vroom Ah Ruota Pneumatico Pane Cane Sole Cuore Gatto Esatto Egonnellina No Ma come gonnellina Ma che segnale è? Ma che cazzo Dove volevo fare Non lo so Ehm Deve tempo scaduto Quanti neanche si capiva Voglio provarci pure io Eh sì ok Eh pacchi Eh eh Fin Nel senso aspetta Figura Ehm Allora Spillo Spillo Esatto Uh grande Ragazzi sono bravissima Spillo di nuovo Eh Chiodo Esatto Ma che cazzo di culo Guarda che coordinazione Ma che culo però Sembrava un colo No non ci posso credere ragazzi Attenzione Bambino No Che bellino che è Ehm Gelato Eh nuvola Braccio di ferro Muscolo Eh oppure Eh culturismo Esatto Guarda cosa hai fatto Guarda cosa hai fatto Hai fatto tumori Brufoli Lentici Esatto No Eh la bocca l'ho fatta un po' Cioè hai fatto polli molli in faccia Però No ragazzi è impossibile Piede Dita del piede Eh ciabatta Piede d'atleta Ciabattina zoccolo Dai oppure Ciabattina zoccolo Esatto No Ragazzi sono bravissima Anche ad occhi chiusi Beh No no questa è impossibile Ehm Sabagono maiku Pesi manubri Manubri No aspetta ti faccio Aspetta aspetta Occhiani No no aiuto Ehm Occiominista No Neonazista Posso rinunciare Festa della liberazione Posso rinunciare Quotidiano di Sicilia Che ti perdo Allora Ombelico Che cazzo è Che col... Polmoni Esatto No no non lo ho letto Mi sembrava strano Incredibile Tu sei stato più bravo Oggi ha vinto Ragazzi la prossima volta Decidete la Penny Taunsa La Penny Taunsa Qui nei commenti Anche se sta cosa di fare Ragazzi Mi diverte Basta Basta Vestiti da femmina Infatti Taglia di capelli Ammazza le persone per strada No Non si fa Non si fa Ammazza le persone per strada E' interessante Ma non si può fare Perché è illegale Molto bene ragazzi Ci vediamo Vi salutiamo A me ci ti aveva insegnato Che si può ammazzare E ricordatevi Che siamo anche su Cheekybox Quindi controllate la descrizione Dove trovate il link Ai nostri video Cioè pausa caffè E quindi Mi raccomando Vi aspettiamo anche lì Ci vediamo A prossima Ciao ciao Ciao